Prima Radio Quando si parla di calcio, di calcio legato ad iniziative di solidarietà, di grandi valori come l'integrazione non possiamo fare a meno che parlarne con il nostro amico Cicciotola. Bentrovato Francesco. Bentrovato a te e bentrovato a tutti voi di Prima Radio che sono veramente tantissimi. Io voglio ringraziare te perché ho visto tramite Facebook che i video veramente sono guardati in tutto il mondo visto che abbiamo la possibilità di far arrivare a questi ragazzi i nostri messaggi. E non sono bello. Pensa se fossi un gran figo quanto visualizzazioni farei. Immagina, devo dire che Giacomo tu sei. Va bene, va bene. E allora a parte questo... Aspetta, fammi salutare anche il tuo amico, hai venuto a trovarci anche Vito. Buongiorno Vito. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora, insieme a Vito state ideando qualcosa di bello? No, io posso dire soltanto che Vito è ormai parte integrante di questo progetto, mi aiuta. Lui è un ragazzo che ha giocato nel Partinico Odace, nella Università da due anni, giocherà il prossimo anno, penso ancora nel Partinico, se lui si mette la testa a posto... In che senso la testa? No, lo sai perché? Che a volte lui è così, ma nel senso che deve decidere quello che deve fare. Allora, facciamo una promessa. Giocherai il prossimo anno? Sì. Ok, è ufficiale, c'è pure il video. E allora, oggi parliamo invece di un'iniziativa importante. Sai, quando si parla di integrazione, noi abbiamo la possibilità di organizzare qualcosa per far sentire la vicinanza nostra a questi ragazzi che vengono da fuori, che tra l'altro si sono integrati benissimo, almeno quelli che diciamo hanno capito il progetto con cui noi stiamo andando avanti da qualche mese, anzi... Lo ricordiamo come si chiama? Audace International, è un progetto calcistico in collaborazione con la Partinico Odace, io voglio ringraziare il presidente Radicelli perché lei è stata sempre l'idiatrice di questo progetto che poi pian piano si è sviluppato, fino a diventare importante, tanto più che ormai ci seguono un po' anche da fuori. I ragazzi di Mediterraneo antirazzista, che loro operano da tanti anni a Palermo, si occupano di beneficenza ma anche di organizzazione di eventi legati all'integrazione, ci hanno contattato perché qualche settimana fa abbiamo organizzato un torneo assieme agli amici della sezione Peppino Impastato di Partinico e il torneo è stato veramente una festa dello sport, di integrazione e questo diciamo non è passato inosservato, tanto più che loro ci hanno contattati, a me e al presidente Radicelli, per organizzare qui a Partinico una tappa di quello che è un percorso importante, che è un torneo dove Palermo già partecipa attivamente, noi siamo la sede di staccate, diciamo così la succursale, una tappa a Partinico voluta appunto perché hanno visto il nostro lavoro e l'impegno durante questi mesi intensi. Tra l'altro voglio ringraziare tutti i collaboratori perché sono tantissimi e voglio ringraziare in prima persona il presidente del Partinico Odace Radicelli, poi il comune di Partinico, tutto l'enturace perché ci stanno dando una grande mano per la realizzazione di un torneo complesso che anche per noi è abbastanza grande e poi voglio ringraziare la cooperativa liberamente a cui fa capo sempre il presidente Radicelli e tutti coloro che a noi ci stanno dando un grande aiuto, il Partinico Odace con l'enturace e anche l'audace international perché noi siamo come sai una squadra legata al Partinico Odace. Allora andiamo proprio al torneo, come si svilupperà, quando, dove? Allora il torneo si effettuerà giorno 28, le iscrizioni saranno prese anche al volo, saranno partite che dureranno poco perché ci saranno tante squadre, sarà un torneo di calcio a 5 quindi delimiteremo il campo, divideremo il campo, il campo da calcio, ci sono anche i campetti che utilizzeremo e che sono adiacenti allo stadio e chiaramente cercheremo di far giocare più persone possibili perché in quella giornata è legato anche una data importante, ossia il secondo giorno di Ramadan, quindi noi facciamo un omaggio a tutti i ragazzi che vengono da fuori con culture differenti. Vito, in qualità di rappresentante del Partinico Odace, ha voluto costituire una squadra perché lui qualche volta è stato anche capitano, almeno per una volta quando è fatto il compleanno ha avuto l'onore di guidare la squadra, solo per una volta però sei stato bravo lo stesso e quindi la tua squadra gareggerà in questo torneo? Sì, sarà una squadretta che dirà la sua, come tutte le altre però voglio dire, voi siete già allenati, siete preparati, rischiate di battere gli altri? No, ma ci sono ragazzi veramente promettenti che Francesco anche aiuta e quindi diciamo la sfida sarà abbastanza certa, se la giocano una bella iniziativa, lo ricordiamo questa domenica, il campo è sempre quello comunale di Partinico infatti poco fa, ringraziando tutti, voglio invitare veramente i partinicesi, gli amici del comprensorio a ricarsi a Partinico, allo stadio comunale perché dalle 14 fino alle 8 ci sarà una grande festa e ripetiamo, ringrazio anche Cesare che lui è uno dei promotori amici palermitani di questa iniziativa importante che a Palermo ha avuto importanti tappe per esempio anche al velodromo, Paolo Borsellino, la finale quindi io voglio dire che sarà qualcosa di particolare e bello e quello che abbiamo costruito pian piano in questi mesi sta avendo i frutti Peccato che qui i miei colleghi sono un po' arrugginiti, sai, un po' sovrappeso e quindi non sono veloci se voi formaste una squadra io sicuramente farei di tutto per farvela iscrivere quindi alla squadra Prima Radio sarebbe veramente l'idea promettiamo che voi, no 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 che giocherete voi ma che sarete i padrini di una squadra di ragazzi e la chiameremo Prima Radio con le magliette che già avete dato, va bene? Prima Radio Football Club, perfetto bellissimo, ok va benissimo, grazie Francesco, grazie Vito, in bocca al lupo per tutti ciao ciao a tutti, alla prossima